Il sostegno a distanza nella cooperazione tra i popoli del Mediterraneo e questo è il tema dell'incontro ospitato questa mattina dalla città metropolitana nella sala Mariella Cirillo della serie di piazza Matteotti organizzato in collaborazione con Forum SAD, il forum permanente delle associazioni per il sostegno a distanza con il supporto della Fondazione con il Sud. Il rapporto tra il sostegno a distanza e il volontariato, esperienze e buone pratiche anche nei progetti di cooperazione, il ruolo dei giovani nella società tunisina sono alcuni degli argomenti trattati nel corso del workshop, cui hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni campane partecipanti alla campagna Accorciamo le distanze, oltre che esponenti della comunità tunisina. Il sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris e il vice ministro degli affari esteri con delega alla cooperazione internazionale Mario Giro, sono intervenuti nella sezione dedicata all'impegno comune per lo sviluppo e la pace per i popoli mediterranei. De Magistris ha sottolineato la necessità di abbattere le mura, di favorire l'incontro e la contaminazione, rimarcando il ruolo di Napoli come città di pace e di accoglienza, mentre il vice ministro ha puntato sulla capacità che deve esserci da parte dei popoli occidentali di guardare con la giusta obiettività e senza dannose demonizzazioni alle relazioni con il mondo arabo, evitando la creazione di ghetti che generano solo fenomeni di solidarietà negativa e procurano manovalanza all'Islam più deleterio.